È colpa della famiglia, è il patriarcato, è qua, è là. Dove sta il giusto? Dove sta lo sbaglio? Su cosa dobbiamo concentrarci? Paola? Allora, sicuramente ci portiamo degli schemi a livello genitoriali che non sono nostri, che magari seguiamo lo schema sbagliato magari di un genitore che potrebbe essere anaffettivo e ci troviamo poi a noi, a nostra volta, quando siamo vittime, a cercare quell'affetto che non abbiamo ricevuto da parte dei nostri genitori, ma logicamente non possiamo e non dobbiamo puntare il dito sempre su quello che è il genitore, perché logicamente anche la società ha i suoi problemi nella quale viviamo. Il problema è che la donna ad un certo punto, e come ribadisco sempre anche nelle mie dirette, sia la donna che sia l'uomo sono comunque vittime, però in questo caso il foro è contatto sulla donna perché ci sono molto più femminicidi in questa situazione, in questo modo, che mi sembra, e da quello che ricevo dalle mie lettrici quando presento le mie dirette, c'è ancora una cattiva informazione in merito a chi è il narcisista. Ancora non si sa riconoscere il narcisista, non si sa quando praticamente una persona ti si approccia, che sia uomo, che sia donna, con un fare molto caloroso, con una personalità molto forte oppure una personalità molto mite, quello sottomesso, quello che è il poverino, che dietro si può celare un mostro. Ricordiamoci che il narcisista non ha una maschera, e una maschera su una maschera e su un'altra maschera. Non conosceremo mai il volto di questa persona, se così la possiamo chiamare. Dobbiamo imparare, dobbiamo informare la persona, formare le persone di chi è veramente il narcisista manipolatore maligno, che ricordo dietro a questa figura di essere nefasto, o questo mostro come lo vogliamo chiamare, c'è comunque una problematica a livello psichiatrico, che è riconosciuta comunque dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sì, certo. E che, a quanto si possa dire, non c'è possibilità di recupero di queste persone, perché non si vogliono curare. Ricordiamoci che loro sono il meglio del meglio, io sono Dio, di conseguenza al di sotto non c'è nessuno, perciò se qualcuno cerca in qualche modo di prevaricare, logicamente non va bene. Guardiamo l'ultimo femminicidio, guardiamo gli altri femminicidi, c'è sempre stata una persona che possiede l'altro, non deve esserci questa idea di possesso, non esiste, perché comunque alla fine poi arriviamo a questo. Certo. Ma informare e basilare in merito. Assolutamente sì. E leggere, quindi io farei vedere, Simone, la copertina di Andata e Ritorno, il libro di Paola Fendoni, il romanzo di una storia vera, e quindi non è frutto di una fantasia, ma è una realtà vissuta, questo libro da leggere e da conoscere. L'abbiamo già presentato altre volte, ma visto che sei qui con noi, ci tenevo a farlo rivedere. Professor Polticchia, c'è questo Dipartimento di Analisi e Prevenzione delle Dinamiche Narcisiste, nelle relazioni, ce n'era veramente bisogno all'università, quindi partire proprio dalla scuola per educare e per imparare, no? Esattamente Massimo, alcuni mesi fa abbiamo voluto fortemente l'apertura di questo Dipartimento specifico che trattasse un argomento così importante, spesso non conosciuto come quello delle dinamiche narcisistiche nelle relazioni. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto, ho scelto nello specifico Paola come direttrice di questo Dipartimento che tra parentesi è uno dei primi e purtroppo uno dei pochi in Europa, serviva a una vera professionista che potesse dare un forte impulso, che potesse approfondire tutti gli aspetti, che potesse originare un soffio innovativo in ambito accademico. Però non c'è solo questo Dipartimento dal nostro punto di vista come Unimeyer, perché Unimeyer è sempre stata molto sensibile al supporto dei diritti umani, infatti abbiamo creato un centro il cui nome è Progetto di Supporto alle Vittime di Reato, visto che Paola giustamente prima parlava di vittime, sia donne sia uomini, presentato ufficialmente a inizio 2015 a Milano. È un centro molto importante, quindi è un centro di supporto alle vittime di reato, si pone come servizio per le istituzioni presenti sul territorio e allo scopo di dare un ruolo centrale alla vittima. Quindi il progetto è costruito sull'implicazione e la valorizzazione di risorse umane disposte a fornire servizi di aiuto alle persone in condizioni di vulnerabilità. Come si vince dal nome del progetto, sono da considerarsi delle vittime le persone fragili, gli anziani, i minori, le donne, tutti gli esseri umani vittime di abusi, di violenze, di maltrattamenti fisici e psichici, di violenze personali, di persecuzioni, di reati sessuali, di circuizioni, di bullismo e la lista purtroppo potrebbe continuare. Quindi è veramente una cosa importante dal nostro punto di vista. Diamo tre tipi di supporto. Sono classificati in supporto psicologico, supporto sanitario, supporto legale e cosa facciamo? E poi finisco noi come Ateneo principalmente tre azioni concrete. Campagna di comunicazione continua e differenziata, quindi rivolta a studenti, dirigenti, scolastici, docenti, famiglie che preveda quindi azioni mirate ad ogni ordine e grado di scuola utilizzando innovative tecniche di comunicazione, tra parentesi. Poi la seconda cosa che facciamo è la creazione all'interno del sito unimeyer.eu che invito comunque a visionare di un'area come punto di raccolta delle informazioni utili provenienti dai vari osservatori e l'ultima cosa che facciamo è l'attivazione dei corsi di specifica formazione. Ma questo lo facciamo dal 2015, non da oggi o da ieri. E quindi si rivela molto importante e fondamentale lungo tutto il percorso a seguire, se applicato però con la giusta sensibilità e metodologia. Assolutamente sì. Io devo subito rispondere di non essere da sempre, dall'inizio, assolutamente d'accordo con quella che è stata la norma che è stata definita femminicidio, che poi non esiste, se vogliamo tutto sommato, non esiste. Anche perché contemplava tutta una serie di norme di adeguamento, di miglioramento della situazione. Ma il problema sta alla base. Per quale motivo tu legislatore mi devi parlare di femminicidio nel momento in cui c'è quindi eventuale uccisione di una donna? E io sono d'accordo poi con la dottoressa quando dice che il termine femmina non l'accetta. Neanch'io da uomo posso dire che questo termine femmina non mi piace più donna. Ora il problema è se esiste già l'omicidio, ma perché allora parlare di una riforma di femminicidio. Perché? Mi trovi o mi dai delle aggravanti, se ritieni importanti, delle aggravanti maggiori sulla questione, come nell'infanticidio e in altre situazioni, mi dai delle aggravanti ma mi parli sempre di omicidio. Perché attenzione, il problema è anche un altro. Si fa troppa pubblicità quando accadono questi fatti. Vediamo la questione di Giulia. in tutte le televisioni giornali oramai si è quasi messo in disparte il discorso e accantonato un po' relativamente, ma comunque il discorso della guerra, delle altre situazioni estremamente, dando risalto al soggetto, quindi alla guzzina, a colui che poi ha commesso. Diciamo che non c'è equilibrio nel trattare gli argomenti. Assolutamente no, assolutamente. Dobbiamo cercare, ecco, io non voglio dare consigli a nessuno, sia ben chiaro, però dovremmo evitare questa forte pubblicità perché crea una scia poi di entusiasmo paradossalmente in quei soggetti che ho sentito prima dire sono soggetti fragili. Beh, a me sono capitati soggetti che non avevano alcuna fragilità, ma erano esattamente l'opposto. Mi ricordo per esempio che ci sono state delle forme di violenza molto spesso che non rientravano in quelle categorie che bene o male si conoscono, cioè la violenza economica, la violenza psicologica e la violenza fisica, ma c'erano delle violenze che erano la sommatoria di tutte queste. Ne dico una se mi è consentito velocemente, tra i tanti casi che mi sono capitati che non riusciamo a comprendere una donna che veniva vista dalle sue amiche, eccetera, dimagrire continuamente. Non riuscivamo a che queste donne e poi queste amiche cercavano di comprendere cosa ci fosse alla base fosse una malattia e non era, fino a quando abbiamo scoperto che questa donna era costretta a non dover mangiare perché doveva dimagrire in modo estremamente notevole perché il suo compagno voleva che lei fosse magrissima, più diventava magra più era accettata soprattutto in intimità, eccetera. Quindi non è facile molte volte scoprire anche queste situazioni. Direi di no. Paola che ne pensi? Ma io parto sempre dal fatto che non sappiamo ascoltare la vittima. Io quando mi ritrovo persone che mi contattano mi dicono non sono stata capita, non sono stata ascoltata. Ricordiamoci che è importante specificare che non viene riconosciuta la violenza psicologica ed emotiva della vittima, nella quale sprofonda. Di conseguenza la vittima si ritrova veramente sola a cercare di far capire quello che sta vivendo e si ritrova sola perché non viene capita, perché viene minimizzato il tutto. Cioè io quello che dico sempre, facciamo fatti e non parole. I fatti sono importanti in questo momento storico perché comunque di donne se ne sono state uccise per mando di un uomo. Visto che ti ho collegata mi è arrivata una mail ieri sera penso, stanotte addirittura. Mi sono arrivate le congratulazioni per averti invitato. da buon seguitore dei canali sociali di internet della professoressa Paola. Posso solo congratularmi con voi e con la sua redazione per aver scelto la migliore interlocutrice possibile di lingua italiana su un tema di alta importanza e significato in una giornata che in realtà dovrebbe essere celebrata nei fatti ogni giorno, anche imparando a convivere e rispettarsi a vicenda. Il signore che mi scrive si chiama Alessandro, vive nella Svizzera centrale e sarei davvero interessato a far sapere quanto il bisogno di sensibilizzare non soltanto l'Italia ma il mondo intero su questo tema sia importante. Se possiamo contattarlo Simone prova a chiamarlo se ti fa piacere Paola, se riusciamo, perché è un bel segnale che mi è arrivato. Sentiamo chi c'è il telefono intanto, pronto? Buongiorno Martire, buongiorno, sono Maura da Trieste, professoressa. Professoressa Maura, buongiorno. Allora volevo dire, prima di tutto finiamola con il discorso del omicidio eccetera. Omicidio deriva da Humanitas dove siamo tutti già dentro e comunque un assassino, eccolo tutto qua. Già i termini non mi piacciono, non mi piace classificare perché non è corretto proprio con la lingua italiana. Bene, allora questo deve essere ben chiaro perché non mi interessa d'omicidio, femminicidio, me ne prego di queste cose qua. Io parlo con i ragazzi e vi dirò una cosa, per i ragazzi con i quali parlo, a che fare con ragazzi di liceo tra l'altro, è importante ad esempio, non tante parole, non tante chiacchiere, non tante manifestazioni, perché purtroppo i ragazzi, come ha detto la professoressa un momento fa, non sono ascoltati, ma l'ascolto è dato anche da una forma di umiltà, di umiltà nel senso dove io mi metto non alla pari, perché non sarò alla pari. Io dico sempre, i ragazzi ridono con me, ma io dico voi siete di là, io sono di qua, però creiamo un ponte tra di noi, ma il ponte comunicativo con l'esempio, ricordatevi, è fondamentale l'esempio nella famiglia, negli ambienti amichevoli, però è inutile, tante chiacchiere, tante manifestazioni, tante proteste, non servono. Ricordatevi quando si era bambini, dicevano non fare, non fare, non fare, facevi. È importante l'esempio, deve partire dalla famiglia, dalla scuola, dalle amicizie e finiamola con la differenza, è di genere, non di genere, siamo tutti esseri umani, ora di finirla, basta. Grazie Maura, grazie per questo messaggio. Professor Polticchia, è così, basta differenziare, siamo esseri umani, lavoriamo su di noi. Esattamente Massimo, è quello che noi stiamo portando avanti da molto tempo, come dicevo prima, addirittura dal 2015, è proprio questo concetto, ovvero formare, comunicare, la comunicazione è veramente fondamentale, quindi formare, educare, condividere, sensibilizzare e comunicare, ripeto ancora una volta, è fondamentale, perché anche dare un senso alla frase durante la comunicazione è veramente molto importante ed è molto pericoloso utilizzare un termine rispetto a un altro. Io personalmente poi gestisco anche il reparto di marketing e di comunicazione all'interno dell'università, quindi so di cosa stiamo parlando quando si affronta il tema della comunicazione in sé, quindi poi anche tu Massimo, è il tuo lavoro, quindi la comunicazione è fondamentale. Assolutamente. Però detto questo, quello che noi facciamo… C'era un nostro telespettatore stamattina che si lamentava, tre ore a parlare di violenza sulle donne, di genere, ancora di Giulia. Magari sono anche poche queste tre ore in cui stiamo parlando, ma dipende come se ne parla, no? Chi ne parla? Cioè il valore che state dando a questa trasmissione voi oggi è eccezionale, perché va al di fuori di quello che si è sempre sentito dire nel corso di questi giorni nei vari talk show, no? Esattamente, esattamente. È fondamentale dare il proprio contributo e cercare di sensibilizzare a tutti i livelli. A tutti i livelli significa all'interno della famiglia, all'interno delle istituzioni e durante anche le lezioni a scuola, ma questo non deve essere però dato come impulso solo quando accade un fatto, ma deve essere preventivamente fatto come noi stiamo facendo effettivamente da 2015. Ripeto, questo è veramente fondamentale, quindi io invito tutti intanto a comunicare in maniera corretta, a abbassare i toni e a condividere assolutamente, educare e formare partendo sia dall'aspetto familiare che fondamentale, sia durante l'aspetto educativo quindi accademico, che anche questa è una parte fondamentale. Paola Fendoni e professor Polticchia, è così allora, come ha detto Roberta Pontrandolfo? Allora, mancanza di empatia, non possiamo insegnarla, questa è innata, è dentro di noi, di conseguenza. Io quello che mi stavo chiedendo è, adesso oggi è il 25 novembre, ma quotidianamente è il 25 novembre. Non portiamo l'attenzione solo oggi, portiamo l'attenzione sempre, cerchiamo di cogliere i segnali, ma mi sono resa conto che quei segnali non vengono colti perché ognuno pensa a se stesso. Cioè, nessuno più guarda l'altro, nessuno più comunica con l'altro, difficilmente trovi, se tu vai al ristorante, trovi persone che nemmeno la coppia comunica tra di loro. Cioè, tutti attaccati a uno smartphone. Cioè, siamo arrivati a questo, non c'è più comunicazione. Che brutta visione che abbiamo, no? Anche quando si è a tavola, in compagnia, tutti qua con questo telefonino, invece di parlarsi e di guardarsi negli occhi. Purtroppo quello, siamo arrivati a questo. Ecco, concentriamoci invece sulla persona, cerchiamo di capire l'altro, cerchiamo di metterci nei panni dell'altro, ascoltiamo chi viene a denunciare e non rimbalziamolo da un ufficio all'altro. Perché il problema è anche questo, le vittime non vengono ascoltate. Ricordiamoci che è importante anche specificare che il manipolatore passa da manipolato e il manipolato passa da manipolatore. Per chi non sa riconoscere questo, perché purtroppo le vittime non vengono riconosciute. Guardiamo quante vittime passano per manipolatrici quando invece sono manipolate. Cioè, andiamo in discussione questo. In più, la violenza di genere, perché io la riporto come violenza familiare. Certo, assolutamente. Poi comunque io e te ne abbiamo già parlato altre volte in questa trasmissione e quindi facciamo che il collegamento con te non si chiude qui oggi, ma ciclicamente una volta al mese dedicami un po' del tuo prezioso tempo. Sicuramente, con piacere, anche perché è un tema che non possiamo sottovalutare, un tema che dobbiamo portare alla luce quotidianamente per capire il perché. E ricordiamoci che tutti siamo ipotetiche vittime dei manipolatori. Perché non c'è nessuno esente. Grazie Paola Fendoni. Volevo salutare anche il professor Poltichi. Un'ultima battuta, professore, sulla vostra mission, continuare a studiare il fenomeno, l'argomento. Esattamente, Massimo. Come abbiamo visto anche in questa trasmissione è saltato fuori, proprio a fiora, l'esigenza della comunicazione. L'empatia, è stata prima ripetuta la parola empatia. L'empatia è una forma di comunicazione. Quindi è fondamentale quello che stiamo facendo. Lo stiamo facendo, ripeto, da molti anni. Continueremo a farlo. Anzi, nel 2024 il progetto si espanderà ulteriormente. Quindi, però vorrei anche porre l'accento su una cosa fondamentale. Quello che dicevo prima. Il dipartimento che abbiamo inserito da qualche mese, dove Paola lo sta dirigendo in maniera estremamente importante. Quindi analisi e prevenzione delle dinamiche narcisistiche nelle relazioni. Questo tipo di argomento in Europa è trattato nelle varie accademie, piuttosto che istituti, piuttosto che università. Veramente il numero è bassissimo. Paola, dimmi se sbaglio, ma questo argomento è trattato a livello accademico forse da meno di cinque università in Europa, giusto? Questo fa capire. Fa capire molto. Dai, andiamo a suonare i campanelli e non scappiamo come quando lo facevamo da giovani, ma facciamoci aprire porte, portoni. E' questo. Massimo, che non è così facile, perché il più delle volte quando suoni un determinato tipo di campanello non viene aperto. Lo so, lo so, lo so, lo so. E tu ne sei la testimonianza. Vabbè, noi continuiamo, insistiamo. Grazie a tutti, grazie a Paola Fendoni, a Mauro Polticchi, a Roberta Portadolfo, che abbiamo già salutato, Pietro Battipede, Giorgio Rossi, grazie. Grazie anche a Luca Bertoncello per tutti, nella loro specificità, per il lavoro che portano avanti, davvero prezioso e anche per il contributo prezioso che hanno dato a questa trasmissione.